Salve, io sono l'ingegnere Riccardo Quaranta, il coordinatore didattico del Master di secondo livello in metodi normative e tecniche per la sicurezza convenzionale e non convenzionale MENZ. Faccio parte anche del direttivo dei Master in primo e secondo livello in protezione di eventi CBRN e dell'Università di Roma Torvergata e mi occupo di safety e security da più di 10 anni. A chi è rivolto il Master MENZ? Il Master MENZ è rivolto a tutte le classi di laurea, che sia laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento. Il Master MENZ è strutturato in moduli di attività didattiche, MAD, 8 moduli durante il corso dell'anno, 2 moduli di attività pratiche, MAP, tra le quali comparirà anche una TTX, che verrà spiegata meglio durante un'intervista con la dottoressa Baiannotti e la dottoressa Colombarusso, e una serie di 10 seminari tecnici che si terranno durante il corso del Master. Alla fine di ogni modulo ci sarà una prova valutativa che servirà ad ottenere i crediti universitari necessari per il conseguimento del titolo che avverrà dopo aver completato una prova finale. Le attività del Master saranno svolte in presenza o in modalità Aula Blended o in modalità Ibrida. Per maggiori informazioni scrivete all'email che compare qui sotto.